Sotto non li vuole! Sotto non li vuole! Sotto! Eccolo il montante! Vai! Vai! Brec! Destro montate sotto! Non li vuole sotto i colpi! Eccolo! 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 Non lo vede così! Torna! Sti, Giù, Giù! Sotto, Giù, sotto! Guarda, Giù, Giù! Guad jumping! Porso! È finito! Sì! 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 Five! Six! Seven! Eight! Five! Gruppo! Desco, desco! Desco, desco! Giorgio, desco e non fai. Alza le braccia e carica ancora! Andiamo! Non mi abbassare il destro il gioco! Non mi abbassare il destro il gioco! Non mi abbassare il destro il gioco! Ripeti te! Carica! Alza le braccia! Alza le braccia! Lascialo! Lascialo! Lega! Lega! Senti, continua! Senti, continua! Senti, continua! Alza le braccia e sciogli! Brec! Grazie! Grazie! Facciamo di qui sto cancio! Facciamo di qui sto cancio! Aspetta, aspetta! Aspetta, asciugare! Quando s'alza! Le braccia e chiusi! Basta acqua! Fuori i secondi! Carica prepotente! Giorgio! Inizia la sesta ripresa! Ancora! 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 Grazie a tutti. 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 Ci sono anche due targhe speciali, una per Stefano De Angelis, il fisioterapista. Orgio Natalizi, se può salire. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ad un grande campione, 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 ad un grande amico. Grazie.